Fatto di brigare, fatto di gente che non sa neanche dove sta la gente di casa, fatto di uni professionali, di avvocati, pensavano di venire qua a dici questo. Noi dovevamo rispondere, era doveroso, e la piazza di oggi, il corteo di oggi, l'agenza che c'è qui oggi, è la minima risposta che potevamo dare a queste infami. E grazie, voglio ringraziare, ringraziamo tutti quelli che hanno sacrificato, diciamo così, questa mezza giornata per venire qui oggi, come si diceva sì, nel posto più bello del mondo, e a dire ancora una volta che questa opera inutile non la vogliamo, ma non vogliamo che venga spesso neanche un altro centesimo per cose che ne servono alle comunità dello stretto. Va bene, arrivo dal pubblico, volevo vissare, ma ci sta pure, un grosso vaffanculo a Nino Germana, che è il capo degli archivotei, che vuole questa opera di merda! Buongiorno. Grazie. 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 che viene in cui lo Stato è completamente assento in questa terra, quello che noi oggi diciamo con forza e quindi un no a una speculazione che è semplicemente un alzare alti precisamente forse il livello del Bill ma che non è un vero investimento per lo sviluppo della nostra terra e della nostra società. La canzone non la cantiamo tutti insieme. La seconda è il fontè? Aspetta, una. La seconda è il fontè? Aspetta. La seconda è il fontè? La mia rifare è più alta. Si deve proprio fare Matteo Salvini l'hai capito E il fontè qualcosa che se non c'è meglio è Il fontè non si deve proprio fare Matteo Salvini l'hai capito E il fontè qualcosa che se non c'è meglio è Il fontè non c'è meglio è Il fontè non c'è meglio è schö Grazie a tutti. Grazie a tutti.